Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video dove sì, parleremo d'altro anche, ma il Grande Fratello Vip in questo periodo batte parecchio, batte sempre forte, esattamente così, perché ci sono un sacco di notizie che riguarda il programma, programma che è molto seguito in Italia, quindi ecco anche il perché. Allora, praticamente si è ritirata dal Grande Fratello dopo due settimane di reality, diciamo detto fatto, era stato detto, adesso è stato fatto, e aveva annunciato la volontà di abbandonare il gioco, e questo durante la puntata di lunedì scorso, dicendo dopo ciò che è accaduto io non posso restare qui, non ci siamo resi conto ma è successo, ho una carriera, ho dei valori, e io comunque lotto per certi temi e non mi vivrei bene questa esperienza. Quindi è inutile restare, anzi, sarebbe proprio un problema perché non starei bene nemmeno con tutti voi. Poi, dopo diversi diciamo avvertimenti, nel pomeriggio di mercoledì l'opinionista è passata dalle parole appunto ai fatti. Dopo uno stop di diverse ore quando è ripresa la diretta del GF, a quanto pare sospesa per banali problemi tecnici di cui abbiamo anche già parlato ieri, niente, praticamente il pubblico ha visto le immagini dell'uscita di scena di Sara, e così è successo davvero, nel senso che Sara Manfuso si è ritirata. Salgono dunque a quattro i vipponi che per un motivo o per un altro hanno lasciato la casa più spiata d'Italia, chi l'ha voluta lasciare di sana pianta lui per conto suo, oppure chi è stato squalificato dal programma. Ebbene, ebbene, tutto è successo per il caso di Marco Bellavia, o almeno è iniziato da lì, e poi Ginevra Lamborghini fuori, Giovanni Ciacci fuori e adesso l'opinionista, che ha abbracciato Eleonore Ferruzzi, Jaelle Dedonà e Antonella Fiordelisi e ha spiegato loro come mai ha deciso di lasciare il programma in maniera proprio netta. Ragazze, sono veramente tranquilla. Ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata, perché dopo quello che è successo non ci riesco, non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d'animo e non ci riesco proprio. Appena esco contatto Marco e ve lo saluto, giuro. Alcuni valori li ho e quindi li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili e quindi mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. Un bacio e tranquille, che tanto ci sentiremmo fuori sicuramente. Non siate tristi. Così ha aggiunto Sara, che poi appunto si è ritirata. Sonia Bruganelli, con cui l'ormai ex vippone ha avuto degli scontri, ha subito commentato la sua uscita su Twitter dicendo Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Mamma mia, che grande perdita per il programma. Detto così sembra una presa in giro, però no, la frase era vera. Allora, questo è tutto per quel che è successo almeno per ora. Vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiremo alla prossima notizia utile sempre. Pausa, caffè. Pausa, caffè.